Con il numero 9, Ugo, numero 10, Magassi, numero 13, Grignani, numero 14, Pisano, numero 19, Cavallini, numero 25, Emanzio. Allena, Giorgio e Cisterno, Massimiliano Canti, a disposizione, Vallequante, Primo, Ciamonato, Mancini, Pina, Tevuto, Armonella, dei due, o due, di notte, Saira, Manca. Allora, con il numero 32, Pichene Avella, numero 3, Alessandro Tiretto, con il numero 4, Erdogan, Gietemi, numero 6, Luca Aglietti, con il numero 8, Andrea Delcauro, numero 9, Alex Eppini, con il numero 10, Marcella Eppini, numero 18, Alessandro Eppoggioli, con il numero 25, Lorenzo Eppoggiati, numero 27, San Matele Papa, con il numero 33, Mario Eppoggiati, allenatore mister Gianluca Turamento, a disposizione, Vitali, Bianconi, Gasconi, Topanari, Sabattini, Poletti, Grioni, Tessori, Terano, Ruani, Mauritti, Pecci, amici sportivi, buon divertimento e forza ancora! Grazie a tutti!